Oltre alla situazione del pronto soccorso che ormai è sulla bocca e sugli occhi di tutti, noi qua stamattina facciamo una conferenza a stampa per denunciare fortemente la grave criticità che questa azienda versa. Quindi abbiamo fatto una piattaforma di problemi che adesso li condividiamo e poi va l'attenzione del direttore generale. In primis voglio elencare, perché è conseguenziale al pronto soccorso, noi adesso, mi sono informato qualche giorno fa, abbiamo oltre 50 domande di pensionamento per la quota 100, più altre fisiologiche che maturano il pensionamento e abbiamo un grave problema che ad agosto c'è il fine rapporto dei tempi determinati. Quindi noi ci troveremo che prima dell'estate questa azienda, e quando dico azienda intendo anche i plessi annesse, ci troveremo che la dobbiamo dimezzare con i servizi, perché diciamo è carente in tutto. I problemi più stringenti da risolvere in via immediata quali sono? I problemi più stringenti da risolvere in via immediata è quello di avere un forte reclutamento di personale professionalizzato, infermieri, OSS e altre figure del comparto sanitario. Trovare qualsiasi strumento per tentare di far arrivare gente giovane, motivata e contestualmente avviare i concorsi per il reclutamento di tutte le carenze di organico, sia dell'area medica che dell'area tecnico-amministrativa. È una procedura che bisogna iniziare adesso perché ha dei tempi lunghi, sono una burocrazia molto lenta nella pubblica amministrazione, con ostacoli normativi e legislativi che rallentano queste possibilità. Purtroppo un'azienda che è ferma su tutte queste procedure è un'azienda che si trova costantemente a gestire la criticità e l'emergenzialità e quindi difficilmente riesce ad essere in grado di trovare soluzioni adeguate. Stamattina siamo qui per affrontare una situazione, quella del pronto soccorso dei Ruggi, che ormai ha assunto caratteristiche di vera drammaticità. E di questo vi parlerà meglio di me, l'infermiera Anna Barone, che lavora ogni giorno in quello che è diventato un vero e proprio campo di battaglia. Quello che io voglio invece sottolineare in questo momento sono alcuni elementi di analisi e soprattutto gli obiettivi che noi ci poniamo come organizzazioni sindacali per cominciare ad affrontare questa problematica. Voi sapete che molta gente che ricorre alle cure del pronto soccorso in realtà dovrebbe trovare utilmente una risposta al di fuori dell'azienda ospedaliera nella medicina del territorio. Questa azione di filtro attualmente non viene svolta, per cui il paziente che potrebbe tranquillamente non ricorrere alle cure del pronto soccorso è costretto a mettersi in macchina o a chiamare l'ambulanza del 118 e farsi portare in ospedale, dove deve affrontare poi lunghi tempi di attesa per una risposta che avrebbe dovuto trovare altrove. ingolfando anche le prestazioni sanitarie che devono essere invece rivolte a quei pazienti che hanno delle situazioni critiche e che quindi necessitano effettivamente dell'attività del pronto soccorso. Una volta arrivato qui il paziente trova dei locali che sono inadeguati pur essendo di recente ristrutturazione, inadeguati per spazi, inadeguati per attrezzature e trova soprattutto un personale assolutamente sottodimensionato rispetto alle esigenze. E questo è il vero problema che riguarda non solo il pronto soccorso ma riguarda l'azienda nel suo complesso, l'emergenza occupazionale. Noi dobbiamo far partire immediatamente le assunzioni con tutti i canali e in tutte le forme possibili. E dunque noi abbiamo ancora in atto una graduatoria di avvisi di mobilità. Ci sono ancora 100 persone che devono essere chiamate. L'azienda deve dare impulso agli uffici perché questo avvenga nella maniera più rapida possibile. Sappiamo bene che pochi risponderanno perché hanno altre situazioni lavorative. immediatamente devono essere promossi nuovi bandi e soprattutto bisogna dare immediatamente avvio alle procedure concorsuali. Perché se la situazione è drammatica oggi con i pensionamenti per quota 100, con l'opzione donna, con i pensionamenti per i lavori usuranti, questa situazione diventerà tale da non consentire agli operatori sanitari di garantire i livelli essenziali di assistenza. Quindi assunzioni in tutte le forme possibili. Scorrimento di graduatoria, nuovo bando, procedure concorsuali. Altra cosa che vogliamo chiarire è che questo deve riguardare anche i reparti ai quali è stato chiesto di aumentare il numero di ricoveri possibili. Si è detto alle medicine, alla cardiologia, all'unità di pneumologia, alla neurologia, aumentate i ricoveri, ma il personale non è stato adeguato. Noi abbiamo avuto situazioni critiche, come in pneumologia, dove c'erano solo due infermieri a fronte di 22-23 ricoveri, di pazienti complessi. Quindi non possiamo continuare a tirare una coperta corta da tutte le parti. Infine poi ci sarà tutto il capitolo che riguarderà la medicina del territorio, sia come filtro in entrata, sia come dimissioni protette. Per quanto riguarda poi il paziente che esce dall'ospedale deve trovare una risposta fuori. Ma per quanto riguarda poi i tempi di degenza del paziente all'interno dei reparti, l'azienda sta dicendo, ha fatto scrivere anche sui giornali, che vuole aumentare l'efficienza di queste degenze, vuole consentire le dimissioni anche il sabato e la domenica. Ora le dimissioni non sono un fatto burocratico, sono qualcosa che avviene alla fine di un percorso diagnostico-terapeutico. E allora se non si interviene sulle criticità della fase diagnostica, quindi su tutti i ritardi che ci sono, per esempio per avere una risonanza magnetica, è chiaro che i tempi di degenza si allungano e in questo modo l'ingolfamento che adesso c'è nel pronto soccorso non fa altro che spostarsi nei reparti. Concludendo, noi abbiamo intenzione su questa questione di andare fino in fondo. Se non vedremo l'attivazione di un tavolo di crisi immediato, permanente su queste questioni e non vedremo immediatamente un cambio di passo dell'azienda rispetto a questo, noi siamo disposti a programmare lo stato di agitazione e a portare questo livello di mobilitazione fino ai livelli regionali. Oggi la vostra mobilitazione che potrebbe portare anche a uno stato di agitazione. Sì, certamente. La situazione del Ruggi, inerente particolarmente al pronto soccorso, è drammatica. L'azienda stenta a prendere decisioni positive, anche se bisogna apprezzare che ieri c'è stato un primo avviso di reclutamento di personale. Ma noi queste risposte certamente non sono sufficienti perché il pronto soccorso è il front office dell'utenza e l'utenza ha bisogno di risposte di salute. Quindi quello che cerchiamo è certamente non ci fermeremo qui di avere un'organizzazione del pronto soccorso che sia soddisfacente per soddisfare i bisogni della popolazione di Salerno. Buongiorno. Io ritengo che lo giudamento progressivo dei presidi annessi ha provocato da 2011 ad oggi l'intasamento e l'ingolfamento del pronto soccorso del Ruggi. Perché da quando c'è stata l'annessione, lo giudamento dei presidi annessi praticamente si riversa tutto su questo presidio principale. Ed in più il piano di rientro che ormai in regione Campania esiste almeno da dieci anni sta praticamente smantellando la sanità in regione Campania. Io credo che sia giunto il momento dopo i sacrifici fatti di dire basta al piano di rientro e arrivare all'ordinaria amministrazione per la sanità in regione Campania.